Noi ci è dispiaciuto molto quello che è successo agli ebrei sulla mano di Hitler e noi è molto addolorato e siamo accanto a tutti gli ebrei che sono nel mondo. Tutto il mondo deve essere solidare, la sofferenza degli altri noi la sentiamo come gli altri debbono sentire la nostra sofferenza. Oggi si dovrebbe andare verso una nuova era di pace, mettere da parte un po' i vecchi scontri anche come in termini di ricordo. La Shoah ricorda Auschwitz, gli ebrei sono stati perseguitati in Europa già nel 1400 quindi dall'espulsione della Spagna, sono stati perseguitati in Russia quindi è un problema da risolvere alla base. La nuova generazione deve ricostruire, sì ricordando, però non ponendo troppo l'accento sul passato ma costruendo una civiltà di pace e di comprensione.